Al centro della mia azione politica ci sono e ci saranno soltanto i siciliani e questo è il monito del presidente della regione Sicilia Renato Schifani nel corso del consueto incontro di fine anno con la stampa che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo d'Orleanza a Palermo. Il presidente ha sottolineato l'importanza dei partiti, soprattutto quelli che lo hanno sostenuto, aprendo anche alle opposizioni, purché ha detto non utilizzino toni della campagna elettorale. Fra i temi analizzati grande spazio è stato dato all'esercizio provvisorio che l'Aggiunta ha approvato fino al prossimo 31 gennaio, alla proroga fino a giugno a titolo di commissari straordinari dei direttori degli enti sanitari in carica e al bando per reclutare nuovi manager. Schifani ha poi posto l'accento su alcuni argomenti su cui il governo sarà chiamato a intervenire nei prossimi mesi, fra questi la riduzione delle liste d'attesa negli ospedali, l'elezione diretta dei vertici delle province, i termovalorizzatori e l'attività di prevenzione degli incendi boschivi e del rischio idrogeologico, anche con la collaborazione della protezione civile. Il governatore ha inoltre anticipato che saranno consegnati entro due mesi i lavori di efficientamento energetico del Castello Ottveggio a Palermo. Nell'ottica di fare della Sicilia un hub del Mediterraneo ha concluso per farne una realtà di scambi culturali che coinvolga in particolare i giovani.